Le ragazze hanno fatto un test di gravidanza e sono tutti positivi! Sono tutte incinte! Mercoledì però non sembra molto felice! Aspetta, cosa sta succedendo? Sono in prigione! No! Sì, perché dove sono? Come gestiranno questa nuova situazione? Entra nella tua cella! Su, sbrigati! Attento, sono incinta! Finalmente posso sdraiarmi! Ehi, fattene! Come ti permetti! Questo è il mio letto! Ciao, ciao! Il mio letto ha bisogno di un restyling! Guardia! Questi sono tuoi, ma devi decorare il mio letto! Faresti meglio a metterti subito al lavoro! Fatto! Fammi vedere! Wow, è tutto rosa! Le lenzuola sono morbide e soffici! Manca qualcosa? Sì, il mio poster! Attaccalo, forza! Tutto quel rosa mi fa venire la nausea! Perfetto! È ora di sdraiarsi! Può andare ora! Cosa ci fanno con i costruttori qui? Un lingotto d'oro! Wow! Ma di cosa stanno parlando? Perché stanno togliendo le sbarre? Che succede? Oh, quella è la super ricca principessa Peach! Mi stai schiacciando! Il letto reale di Peach batte decisamente il letto di Barbie! Cosa guardi? Patetica! E tu? Sei povera! Farò io stessa il mio letto! Una pala! Oh wow! Mercoledì non scherzo mica, eh? Ehi, stai sporcando tutto il mio letto! Mercoledì! Questo non è il momento di scavare alla ricerca di un tesoro! Aha! Trovato! La barra di un prigioniero! Grazie, ma questa ora è mia! Hai appena baciato un cadavere! Ciao, ciao! Oh, com'è comoda! Che passante! Sembra che la sfida sia appena iniziata! Il medico è qui per fare un'ecografia! Voglio essere la prima! Oh, quanti soldi! Voglio essere io la prima! Guarda quante monete! L'oro è meglio dei soldi! La principessa Peach sarà la prima! Come ti permetti? Sarà ricco! Bene, iniziamo! Vediamo! Sono io, Baby Mario! Woohoo! È adorabile! Ma sto saltando! Ora tocca a me! Sbrigati! Arrivo subito, signorina! Prima Amidi e soldi, per favore! Mille dollari! Sono pronto! Iniziamo! Voglio pubblicare il mio selfie su Instagram! Mia figlia è tale quale a me! Sembra molto sana e ricca! Io ho solo una moneta! Una moneta? Non basta! Oh oh! Hai fatto arrabbiare mercoledì! Dov'è finita la mia macchina? Manola rubata per mercoledì! Ci faccio da sola! Non hai bisogno di un dottore quando hai tutti gli strumenti che ti servono! Ottimo lavoro, Mano! Conosciamo il bambino! Scusi! Ma cosa sta facendo? È mio! Oh! Stai facendo del male alla mia mamma? Prendo solo questo, ok? Ciao ciao! Non c'è dubbio che sia davvero la bambina di mercoledì! È l'ora di fare il bagno! Naturalmente la ragazza super ricca andrà per prima! Non mi importa! La sua vasca è brutta! Una vasca dorata per lei, principessa Peach! Mi piace un sacco! Prendi la mia vestogna e vattene! È molto rilassante! Tocca a me? Sì! Finalmente! Sono rimasta io per ultima! Questa doccia è solo per lei! Perfetto! Un po' di privacy, per favore! Ops! Scusi! I'm a Barbie girl! In a Barbie world! Non riesco a lavare i piedi! Ho bisogno di aiuto! Wow! Sono un sacco di soldi! Ecco i suoi stivali! Interessante! Basta versare del sapone all'interno e un po' d'acqua! Fino a riempire lo stivale! Barbie può lavarsi i piedi ora! Bello, vero? Gadget molto utile! Wow! Ora sì che i tuoi piedi sono puliti! Adoro questo gadget! Ok, mercoledì! La tua vasca da bagno è dietro di te! Quella bacinella! Girati! Ho bisogno di un po' di privacy! Ops! Non vedo nulla! È una bella vasca! Devi solo farti piccola piccola! Ma no, grazie per la saponetta! Sei molto gentile! Guarda quella vasca da bagno! Perdente! Aspetta! Ma quella è una bacinella? Perdente! Ragazzi, avete fatto arrabbiare mercoledì! Cosa farà adesso? Questo lo prendo io! Oh oh! Non finirà bene! La doccia di Barbie potrebbe essere un po' colorata! Fatto! Buon divertimento! Ora mi sciacquo! La la la! Oh oh! Abbiamo un problema qui! Ah! Oh oh! Quelli sono piragna! I miei animali vorrebbero giocare con te! Oh! C'è qualcosa che mi morde! Aiuto! Bene tanto porto ad avere un problema! La vescica piena! Oh no! Ho bisogno di fare pipì! Guardia! Vieni qui! Portami in bagno, per favore! Devi andare in bagno? Ok, andiamo! Ho bisogno di fare la pipì anche io! Andrò per prima! Wow! È una mano! Vorrei andare anche io in bagno! Prendimi i soldi ma fammi andare per prima! Ho un lingotto d'oro io! È ovvio che sceglierà il lingotto! Questione di priorità! Giusto? Sbrigati! Ti darò solo cinque minuti! Piccio di certo non userà un gabinetto sporco! Che tipo di mostro viveva qui? Voglio andare in un altro bagno! Venga qui, per favore! Tutto è fatto d'oro! Proprio come preferisce lei! È perfetto! Finalmente! Che sollievo! Ok, chi è la prossima? Io ho i soldi! Mi dispiace, la ragazzaricca deve andare per prima! Venga su! Non userò questo bagno sporco! Altri soldi mi segua! Può usare questo! Scusate! Fuori di qui! È occupato questo bagno! Ops! Provi la porta accanto! Wow! È tutto rosa! Questo bagno è perfetto per me! Molto meglio! Bello! C'è anche la carta igienica fatta di soldi! Ora tocca a me! Oh! Mi hai spaventato! Aspetta! Come hai fatto ad uscire? Che cosa? Dove sono le mie chiavi? Certo! Mano ha aiutato! Dammi! Vieni! Questo è il tuo bagno! Ecco! Cosa? No! Mercoledì è solo una moneta! E ovviamente non è abbastanza per il poliziotto! Dammi i tuoi calzini allora! Cosa? Cosa vorrà fare mercoledì con i calzini del poliziotto? Ah! Ho capito! Mercoledì si potrà sedere sulla tavoletta ora! È anche calda! Devi solo lavare i calzini e igienizzarli molto bene dopo! Mi metto lo smalto! Ah! La mia bambina ha scalciato! Che disastro che ho fatto! Oh no! Non smette! Oh! Forse un po' di musica l'aiuterà a calmarsi! Ecco! Tieni le cuffie della mamma! Oh sì! Si è calmata! Finalmente! Non posso credere che abbia funzionato! Posso continuare a mettere lo smalto! Il mio bambino sta scalciando! Ai! Baby Mario deve aver fatto un brutto sogno! Forse le cuffie funzioneranno anche su di te! Non funziona! Cosa faccio? Chi ha portato il poliziotto? Oh wow! Ma è Billy Stylish! Spostati! Sta funzionando! Ama la tua musica! Baby Mario si è calmato! La musica ha aiutato le due mammine! Ma sta disturbando mercoledì! Oh no! Anche la mia bambina ha iniziato a scalciare! Wow! Che disastro! Oh! Mi è venuta in mente una cosa! Cosa farà mercoledì con quelle lattine vuote? Attacco le lattine con una corda! Ecco! Sembra un telefono ora! Adesso la mia bambina può ascoltarmi! C'era una volta un mostro enorme! E spaventoso! Sta funzionando! Non c'è modo migliore per calmare la baby mercoledì! Che leggere una favola spaventosa! Perfetto! Si è addormentata! Barbie non vede l'ora di scoprire il sesso del suo bambino! Su, scoppia il palloncino! È una bambina! Una bellissima bambina! Non vedo l'ora di conoscere la mia bambina! Ora è il turno della principessa Peach! Deve colpire la pignatta! Aha! Chi non ama tutti questi tesori? Vediamo il sesso del bambino! Un lego! Avrò un maschietto! Avrai un maschietto! Mercoledì non vuole un noioso palloncino da scoppiare! È una bomba! Tutti al riparo! Oh! No, 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 no! Ci è mancato poco! È una bambina! Non mi piace! Sono ancora vivo! Quando hai un pancione non è semplice dormire! Uff! Ho bisogno di aiuto! Aiutami! Ma è un unicorno! È Ken! Ti ho portato una ciambella! Non posso credere che tu sia qui! Cosa mi hai portato? A cosa mi serve? Scendi dal letto e te lo mostrerò! Ora sdraiati e metti la pancia nel buco! Ok! Così? Wow! È molto comodo! Te l'ho detto! Tieni anche questo! Sei il fidanzato migliore del mondo! Buonanotte! È stato dolce! Ora, Peach è un po' gelosa! Forse... Ciao! Sono io! Mario! Ti ho portato qualcosa! È un cuscino! Mi piace un sacco! È molto comodo! Ciao, tesoro! Che forte! È un cuscino anche per la tua pancia! Oh, quanto parlano! Devo chiudere il coperchio! Oh, oh! La tua pancia non te lo permette! Mano... Cosa farà, Mano, con quel coltello? Taglierà la pancia di mercoledì! Oh, mamma! Ho fatto un buco nel coperchio! Ora anche mercoledì potrà riposarsi senza problemi! Mano, ottimo lavoro! Cosa stanno facendo le ragazze? Wow! Che bel passeggino! Finalmente è arrivato! È perfetto! Ecco, tieni! Ti darò un lingotto d'oro se riesci a darmi quel passeggino! No! Ecco, è tutto tuo! Sì! Il passeggino è mio ora! Non è giusto! Era mio! Oh no! Mi dispiace! Ho un'idea! Wow! Un passeggino fatto di soldi! È perfetto per la mia bambina! Wow! Voglio un passeggino gotico! Una moneta per questo passeggino gotico! Posso solo darti qualcosa che vale questo prezzo! Che cos'è quello? Cosa sta facendo il corriere? Preso! Smettila di spaventarmi! Questa è l'unica cosa che ti posso dare! Ciao! Un solo cassetto! Mercoledì ha un'idea migliore, però! Se non riesco a procurarmi un passeggino gotico, lo farò io! Per fortuna della vernice spray nera! Voglio colorare tutto di nero! Ora ci aggiungo delle catene intorno! Metto delle coperte dentro! E un cuscino! Sono sicura che la mia bimba la adorerà! Bene! Sembra che tutte le signore sanno contente dei loro passeggini! Ognuno con il proprio stile! L'ha detta le polizie un sacco di lavoro oggi! Ma sembra che abbia anche un po' di tempo libero! Un pancione! Devo toccarla! È grande e morbido! Oh! Cosa stai facendo? Smettila! Prendi i miei soldi e vattene! Wow! Sono rinca! Ma non posso smettere di toccarla! Non ti bastano? Allora prendi questi! Wow! Va bene, va bene! Oh! Un altro pancione! Finalmente! Un pancione! No! Fermati, fermati! Devo toccarla! No! Vai via! Presa! Non così in fretta! Meno male! C'è un altro pancione! Tocca quello! È mercoledì! Arrivo! Ti guardo! La principessa Peach non si tocca! Grazie, guardia! Oh, che bella pancia! Che cosa? Chi ti ha detto che puoi toccare la mia pancia? Vai via! Oh... Non ce n'è bisogno! Un altro piano! Cosa vorrò fare, Mano, con quella borchia? Forse vorrà decorare la pancia di mercoledì! Non è divertente! Forse dovresti continuare a mettere altre borchie! Ora chi oserà toccare una pancia appuntita? Che male! Ottimo lavoro, Mano! Sei stato bravo! Ecco il tuo cibo! Porridge di parassiti! Mangialo! È un sapore unico, eh? Mercoledì! Mangierai davvero quella roba? Anche Barbie ha il porridge di parassiti! Prendi tutti i miei soldi, ma portami del cibo! Ma certo! Che ne dice di un panino con la salsiccia? Finalmente! Devo andare! Non è giusto! Anche Peach ha lo stesso porridge! Tieno un lingotto d'oro, ma portami del cibo! Pizza deliziosa! Come mai lei è una pizza? Ne voglio anche io una! Non ho un'altra pizza, ma ho della panna montata! Non penso che la panna montata e salsiccia steno bene insieme! Ma se a Barbie gli piace! Anche io voglio qualcosa di dolce! Una fetta di torta per te! Ecco qui! Non mi piace! Non la voglio più! Anche la panna montata non è buona! Non mi importa! Mangiate! Oh mamma, che carattere! E il bambino sta uscendo! Quanta acqua rosa! Sta per partorire! Oh no! Anche le mie acque si sono rotte! Sta per partorire! Mi fa male la pancia! Mi sono rotte le acque! Oh mamma, stanno per partorire tutte e tre! Il dottore avrà un sacco di lavoro oggi! Sono tutte pronte a partorire! Che farò per prima? Voglio essere la prima! Ti darò dei soldi! Mi piace questa idea! Posso darti più soldi! Wow! Una valigia piena di soldi! Come posso dire di no? Io ho solo questa! Sei l'ultima! Iniziamo! Naturalmente il dottore ha scelto Pitch! Per prima cosa metterò da parte questi soldi! Sei pronta a partorire? Fai dei respiri profondi e spingi! Ci sta provando! Eccolo! Guarda il tuo super ricco bambino! Mio figlio! Sei bellissimo! È il mio turno! Sbrigati! Non ce la faccio più! Prima i soldi! Ok! Ora ti farò partorire! Fai i respiri profondi e spingi! Vedo la testa! Ancora una spinta! Eccola qui! Eccola la sua bambina ricca! Guardala! Piccola mia! Mercoledì sta soffrendo in silenzio! Vieni qui addetto alle polizie! Mi aiuterai tu a partorire! Devo pulirla un po'? Ok! Sono pronta! Su! Spingi! La vedo! Sto spingendo! L'ho presa! Tua figlia è a savolare! Eccola tua mamma! La mia piccolina! Ora sei finalmente con la mamma! Cosa sta succedendo? Non puoi mettermi in prigione! Sono incinta! Oh poverina! Però c'è un bel letto comodo! Wow! È molto morbido! Oh oh! Attenta! Come ti permetti? Questo è solo del cartone! Questo è il mio letto! I poveri non sono ammessi! Che schifo! Che cattiva! Uffa! Che luce! Wow! Che bei vestiti! Davvero alla moda! Oh mamma! Mi sta accecando! La mamma super ricca è qui! Cosa? Non ci posso credere! Guardia! Vieni! Cosa c'è signora? Wow! Quanti soldi! A cosa servono? Voglio avere un letto tutto mio! Nessun problema! È molto comodo! Vattene! E trovo un altro letto! Finalmente è mio! Sta spruzzando un profumo molto costoso! Scusami! Io dove dormirò? Sembra che la guardia sta pensando a questo! Ecco! Dormirai qui! Assolutamente no! Scordatelo! I cuscini però sono molto morbidi! Odio questa situazione! Le tre mamme sono in prigione! Cosa succederà ora? Oh oh! Le mamme hanno fame! Sì! Prima io! Cosa ci sarà lì sotto? Porridge? Certo! Tu sei povera! Porridge anche per me? Ma sei pazzo? Perdanti! Wow! Che bel piatto! Ma non va affatto bene! Ehi! Perché mi hai dato il porridge? Portami qualcosa da mangiare di buono! Prendi questi! Eh già! Una mamma famata fa paura! Wow! Che balla hamburger! Wow! Lo adoro! È buonissimo! Anche io ho fame adesso! Eh? Altri soldi? Perché? Wow! Altre cose da mangiare! Non ci credo! Anche io voglio quelle cose! Guardia! Sono soldi d'oro! Questi sono tuoi! Ma dammi da mangiare! Una torta! Wow! Che ragazza fortunata! Oh! Idea! Oh no! Cosa pensi di fare con quello? Prendi! Oh no! Non mi interessa! Davvero? Cos'è? Quelli sono cetriolini sotto aceto! Vabbè! Non sono passasi male! Nutella sull'hamburger! La mamma ricca ha una voglia interessante! Mi credo che sapore abbia! Non riesco a guardare! È davvero un parino molto strano! Oh mamma! Mi viene la nasa solo a guardarla! Delizioso! Cosa sta facendo la mamma super ricca? Oh! Gamberi insalata sulla torta! Che voglie strane hanno queste mamme! L'unica normale è la mamma povera! Sott'aceti e porridge! Oh! Cos'è questo odore? Oh oh! Perché mi guardate così? Fammi dare un morso! Mamma! Questa è la tua occasione per diventare ricca! Eh? Cosa sta facendo? La mamma povera è molto carina! Sta condividendo il suo cibo! Sta tagliando il cetriolino in parti uguali! Sì! Oh no! Mi viene da vomitare! Il tuo parigi è mamma con me! Spero che almeno il tuo piatto sia buono! Ehi mamme! Perché siete così concentrate sui telefoni? Tutte tranne la mamma povera! Ehi! Cosa succede? Ai! Penso che mi si siano rotte le acque! Sta per partorire! Oh no! Le mamme sono nel panico! Mi fa male! Anche la mamma super ricca è pronta per partorire! Anzi no! Tutte e tre lo sono! Oh no! Ragazzi state calme! Guardate! Il dottore è qui! Prendi i miei soldi e aiutami a partorire! Ok va bene si calmi! Non resisto! Faccia prima me! Ok! Smettetela! Lei sarà la prima! E non si discute! Ma la mamma super ricca non si arrende! Sta facendo qualcosa! Cos'è? E affare fatto! La mamma super ricca sarà la prima! Spingo mamma! Può farcela! Sì! Ce l'ho fatta! Guardate! La bambina è coperta d'oro! Com'è possibile? E io? Sì! Aiutami per favore! Ehi! Vieni qui! Di cosa hai bisogno? Oh no mamma! Quello non è un medico! Aiutami! Sì! Sì! Benvenuto! Odio il sangue! Finalmente è finita! Aiuta anche me! Non posso! Wow! Quanti soldi! È facile convincere un poliziotto! Ci siamo! Oh mamma! Mi fa male! Ecco il tuo bambino! Wow! Ha dei diamanti! Sì! Finalmente è finita! Oh! Cos'è successo? Oh! Un bambino! Oh! Guardate che carine queste mamme con i loro piccolini! Oh! Tutte le mamme amano i loro figli! Che bella scena! Va bene signore! È ora di pulire la cella! Ah? Ho dimenticato qualcosa! Ops! Torno subito! Cos'è? Voglio dare un'occhiata! Sì! Non c'è nessuno! Cosa fai? Wow! È stato facile! Ma cosa ti servirà quel carrellino? Vediamo! Tutte queste cose sono inutili! Oh no! Che disordine! Un giornale? Sì! Oh! Che bella idea! La mamma povera ha fatto una bella pulla per il suo bambino! Dov'è andato il mio carrellino? È scappato via! Spero che non mi cada niente! Ops! Anche io voglio un passeggino! Oh! Mi chiedo dove andrai a comprarlo! Una chiave! Wow! Il passeggino della bambina ricca e della Lamborghini! Sembra molto costoso! E va veloce! È come un'auto da corsa! Signora! Sto andando troppo veloce! Mi sento male! Deve fermarsi! Ho superato il limite di velocità! Oh oh! La mamma ricca ha appena preso una multa per eccesso di velocità! È ridicolo! Devo portare via il suo passeggino! Il bambino ricco non ha più un passeggino! Siete ridicole! Guardate il passeggino della mia bambina quanto è bello! Oh wow! Ma quella è una guardia del corpo! Eccolo! Andiamo piccolina! Guardate! Quel passeggino è morbido e lussuoso! Cos'è? Aspettate! Un telecomando! Wow! Non ci credo! Penso che stia andando troppo veloce! La mamma si sta divertendo troppo! Oh no! Mi gira la testa! Guardate! L'hai rotto! Oh no! Chi era quel piede? Oh che male! Povero sembra doloroso! Chi sei e cosa ci fai qui? Essi di qui con quel passeggino! Colpire la guardia non è stata una mossa intelligente! Ora le mamme ricche non hanno più i passeggini! Ridammalo per favore! La mamma povera ha un'idea! Ci sono altri due spazi nella sua culla! E per i poveri! Ma vabbè! Ci fanno male le braccia! La mamma povera è molto gentile! Amo condividere! Quei giornali però sembrano scomodi! Ma è molto bello vedere queste mamme andare d'accordo! Cosa stai facendo con tutti quei soldi? Bello! È un aeroplano di carta! Cos'è? Oh sì! Sono soldi! Vieni qui! Devi fare qualcosa per me! Chissà cosa sarà! Puoi condividere il segreto con noi? Cos'è quello? Wow! Questo ci dirà il sesso del tuo bambino! Su! Fallo scoppiare! Wow! Quanti coriandoli! Sta nevicando! Piemono coriandoli blu! Che bello! Aspetta! C'è qualcos'altro! È una lettera? Eh? È blu! Avrà un maschietto! Sì! Sono curiosa di sapere il sesso del mio bambino! Cosa posso fare? Una scatola di cartone! Idea! Cosa stai facendo? Guardate che belle figure di carta! Ha bisogno del tuo aiuto! Voglio sapere se avrà un maschio o una femmina! Per favore! Oh! Ok! La mamma è molto contenta! Ma non credo che sia così che funzionino le cose! È difficile! Ok! Scelgo la mano sinistra! Sì! Quindi? Cos'è uscito? Una bambina! Oh! La mia piccola principessa! Adesso vedrete sciocchine! Ehi tu! Devi aiutarmi! Capito signora! Ah! La mia piccolina! Cosa è? Wow! È una pignatta a forma di unicorno! Questa ci rivelerà il sesso del bambino della mamma super ricca! Oh oh! Cos'è tutta quella roba? Aspetta! Non penso sia una buona idea! Che pussa! Oh no! Non farlo! Stai giocando con il fuoco! Ciao! Ok super mamma! Adesso dovrei romperla! Sei pronta? Via! Ok! Ci sono! Woohoo! Dai! Ceri quasi! Continua così! Ce l'ha fatta! Aspetta! C'è qualcosa che non va! Che puzza! Sì! Non è stata una bella sorpresa! Oh no! Mi viene da vomitare! Meno male che c'è la guardia che è sempre super preparata! Cos'è questa puzza? Oh mamma non ce la faccio! No! Non è mia figlia! Ora chi è? Forse è il bambino della mamma ricca! Ma no! Non è nemmeno lui! Ah! Forse è la bambina della mamma super ricca! Mamma mia che puzza! Deve essere tutto quel latte! Penso che sia arrivato il momento di un bel bagnetto! Wow! La mamma ricca è molto preparata! Che bella vasca da bagno! E quanti prodotti! Il bagno schiuma è uno shampoo molto speciale! Sono fatti d'oro? Che forte! Vivono nel lusso! Che buon profumo! Adoro quando è pulito e profumato! E ora mettiamo il pannolino! Mamma sei stata bravissima! Tuo figlio sembra contento! Non importa! Farò il bagno anche alla mia bambina! Wow! È una vasca da bagno dorata! Queste mamme sanno come viziare i loro bambini! Mamma super ricca! Cosa farai adesso? Wow! Anche lei ha l'acqua dorata! La voglio provare anche io! E ora un po' di questo schiuma! Che bambini fortunati! Ops! Può bastare! Non credi? Poi cosa farai? Altro oro! Wow! Perfetto! La mia bambina è pronta per il bagnetto! Budisco qui e qui e un masciaccino qui! Ma quello è un pannolino d'oro! Che bambina speciale! Scommetto che costa più di casa mia! Che profumo! E ora tocca a te mamma povera! La tua bambina deve fare il bagno! Un contenitore e una bottiglia d'acqua! Non credo che funzionerà! Cosa potrai usare? Quel sacchetto di plastica! Però non credo che sia molto pulito! Beh ma immagino che non ti importi, vero? Iniziamo! Appende il sacchetto di plastica alla struttura! La struttura del letto! E ora versa l'acqua! Questo è il colore dell'acqua che conosco! Poi immergi il bambino! Per fortuna non fa troppo freddo! Penso che le piaccia! È rilassante! Sei l'amore della tua mamma! Sì! È pulita! Come profumi! Forte! Stai usando il giornale per fare un pannolino! Ottimo modo per riciclare! Evviva! Hai fatto un ottimo lavoro, mamma! Oh, che bella stanza pulita in ordine! Grazie alla detta alle pulizie! Oh oh! Sembra che qualcuno qui abbia sonno! Wow! La tua pancia è molto grande! Posso toccarla? Certo! Penso! La mamma povera sembra un po' a disagio! Penso che il bambino stia scalciando! La mamma povera si sta infastidendo! Eh? Oh! Guarda laggiù! Eh? Cos'è? Cos'è intenzione di fare, mamma povera? Oh oh! Stai attenta! La mamma sta pianificando qualcosa! Sì! Oh sì! Quanti aghi! Che bella idea! Di sicuro non ti toccherà più la pancia! Però ci sono altre due mamme nella stanza! Ciao piccola! Vazzone! Non ti è permesso di toccarle la pancia! Meno male che c'è la guardia del corpo! Ecco che corre dall'altra mamma! Ehi! È una bellissima pancia! Aspetta! Cosa sta succedendo? Perché stanno mettendo le mascherine? Eh? Oh no! È un narcotizzante! Prendi questo! Ah ah! È stato veloce! Ora hai imparato la lezione! Non infastidire le donne incinte! Ottimo lavoro ragazze! Wow! Quanti regali! Penso che sia non per la mamma ricca! Cosa ci sarà dentro? Il suo letto è già pieno di regali! Voglio aprire questa per prima! Finalmente! I vestiti che avevo ordinato per il mio bambino! Mamma super ricca che fai? È bellissimo! Ok! Apriamo un'altra scatola! Me ne mancano ancora tante! Lei ha un sacco di scatole! Oh wow! Quanti pigiamini! Le adoro! La mamma super ricca è un po' gelosa! Sono sicura che farà qualcosa! Anche io voglio dei vestiti per la mia bambina! So cosa fare! La mamma super ricca sta chiamando qualcuno! Mi chiedo chi però! Sembra contenta! Che velocità! La mamma super ricca ha chiamato una famosa designer! Voglio che usi quest'ora o fai un vestito per la mia bambina! È pronta! Mi chiedo se funzionerà! Sembra un lavoro davvero impegnativo! La mamma sembra essere molto esigente! Ho quasi fatto! Wow! Che bello! È un vestito molto costoso! Mi raccomando! State attenti! Cosa sta facendo la mamma povera? Oh no! Sei ridicola! La mamma povera non ha bisogno di un designer! Può crearlo da sola! Wow! È molto brava a cucire! Ha quasi finito! Ta-da! Che bello! Ridicola! Che pezzante! Io penso che sia molto carino! Lasciate stare la mamma povera! Ha fatto del suo meglio! La mamma povera sta acquistando delle cose carine per la sua bambina! Ma non può uscire dalla prigione! Guardate che bella culla! Ma costa 500 dollari! Oh aspetta! Penso di avere qualcosa qui! Oh no! Non credo sia abbastanza! Wow! La mamma rica ha ricevuto un regalo! Mi chiedo a cosa ci sia dentro! Wow! Che belle scarpe! Sono un'edizione limitata! Ok! Buttiamo via questa scatola! Oh mamma! È molto buio qui dentro! Quella mamma rica è insopportabile! Ho un'idea! Cosa farai ora mamma povera? Hai sempre delle belle idee! Mamma! Siamo curiosi! Forse! Sembrano veri quei fiori! Aggiungi un po' di colla qui e qui! E' fatto! Che bella culla che hai fatto mammina! Sei molto creativa! Che schifo! Mi comprerà una culla fantastica! Voglio dare un'occhiata al catalogo! Ci sono un sacco di opzioni! Oh! Eccola! Ma è molto gustosa! Ma non preoccupiamoci! La mamma rica può permetterselo! Corriere! Che velocità! Grazie! Grazie mille! Wow! Sta usando i soldi come lenzuola! Che lusso! Anche la mamma super ricca vuole una cosa simile! Ne ha comprata una! Forte! Sembra molto pesante quella scatola! Non vedo l'ora di aprirla! Aspettate! Devo scansionarla! Cosa sta succedendo? Spero che non ci sia niente di illegale dentro! Ok! Può aprirla! Sì! Non vedo l'ora! È una culla d'oro! Manca qualcosa! Guardi e impari! Deve indossare questi occhioli prima! Ma cosa vuoi dire? Cosa succede? Scopriamolo! Oh mamma! Quanta luce! È accecante! Come può dormire un bambino lì dentro? Entra nella tua cella! Detenuta! Sei pazzo? Non vedi che sono incinta? Non mi interessa, ok? Oh, caffone! Wow! Questa è la mia cella? Non ci posso credere! È bellissima! Certo che no! Oh, ok! Beh, anche questo letto è molto carino! Posso stare qui? Assolutamente no! Vai sul tuo letto! Sembra che a Davy aspetti il letto più brutto! Oh, sì! Lei è povera! Poverina! Che tristezza! Guardate che materasso! Anche la coperta è tutta strappata! Chi arriva? La ragazza ricca! Anche lei vuole un bel letto! Ma non sa che questo piccolo angolo reale non è suo! Ecco! Quello è il tuo letto! Anche Grace deve affrontare la dura realtà! Vabbè, non è il letto migliore, ma non è male dopo tutto! Oh wow! Cosa succede? Perché un tappeto rosso? Non capisco! Chi è? Mettiamo un po' di glitter e cose scintillanti sul tappeto rosso! Diamanti e tappeto rosso? Chi sta arrivando? Cosa sta succedendo qui? Chi sei? Oh! È la ragazza super ricca! L'angolo più bello della cella è il suo! Bene! La stanza non è perfetta, ma... Ok! Ora devo riposare! Wow! Vorrei essere come lei! Pazzesco! Ecco che arriva il dottore per controllare i bambini! Puoi controllare il mio bambino per primo? Ti darò una moneta! Sembra che tutte le ragazze vogliono dare dei soldi al dottore per farsi visitare per prime! Ho un suggerimento per te! Vieni qui! Guardate! Una valigia piena d'oro! Beh, è chiaro dove andrà prima il dottore! Controlliamo la bambina! È bellissima e sana! Molto bene! La bambina nuota felicemente nell'oro! Sì! Che bella bambina! Vediamo come sta la bambina di Grace! Controlliamo! Guardate! La bambina sta facendo un bagno tra i soldi! Non vedo l'ora di avere tra le braccia la mia bambina! Grazie, dottore! Prego! Ciao, ciao! Per favore, dottore! Ho bisogno di sapere se la mia bambina sta bene! Questo è tutto quello che ho! La prego! Non è abbastanza! È troppo povera, signorina! Assolutamente no! Oh, per favore! È tutto quello che ho! Oh, ok! Ma per quella somma controllerò la sua bambina alla vecchia maniera! Dai, su, dottore! Facci vedere! La mia bambina è bellissima! Poverina! È in mezzo alla spazzatura! Tutte le bambine stanno bene! Ottimo! Giornata di compere! Wow, che bel passeggino! Scommetto che è molto costoso! È ricoperto di oro e di diamanti! Wow! Voglio comprarlo! Ecco! Oh, no, no, signorina! Mi dispiace tanto! Ma è già stato venduto! Che bel passeggino! Questo passeggino è già stato venduto! Mi dispiace, ragazze! Ma quel passeggino non lo potete comprare! Non capisco come spiegare il fatto che non possono comprare il passeggino! Mi scusi, voglio comprare qualcosa per il mio bambino! Ma ho solo questa moneta! Ecco qui! Wow! È mio! L'ho visto per prima! Oh, mamma! Adesso basta! Guardia! Portatela via! Sta cercando di prendere il mio passeggino! Vai via! Ora! Evra ha il potere di ottenere sempre quello che vuole! Grazie a tutti i suoi soldi! Tieni questo! Non ne ho bisogno! Il passeggino è mio! Hai capito? Cos'hanno i clienti in questi giorni? Wow! Quanto è carino! Un passeggino di contanti! Lo adoro! Lo voglio! Ecco qui! Ok, prendilo e bevia, per favore! Beh, che dire! Sono ricca! Oh! È ora di cena! Vediamo cosa avranno per cena! Ecco, signorino! Basta con diamanti! Wow! Grace invece ha un'insalata con delle banconote! Oh! E cosa mangerà la povera Ivy? Oh, sì! Ivy avrà solo dei fagioli in scatola! Ma lei è contenta lo stesso! Grazie mille! Inizioso! Dopo aver mangiato, facciamo ascoltare al bambino un po' di musica! Vediamo se questa canzone le piace! Oh no! Al bambino non piace affatto questa musica! Oh mamma, quanti calci! Ai! Oh no! Devo pensare a qualcos'altro! Non voglio che la mia bambina mi prenda calci in quel modo! Guardia! Vieni qui! Ho bisogno di una vera musica! La guardia farà di tutto per compiacere Evri! Oh oh! Alla bambina non piace questa musica! Wow! Un'intera band! Suonate della buona musica! Ah ah ah! Ah ah! Tutto buonissimo! Sono piena! Oh! Cosa succede? Cos'è tutto questo rumore? Le mamme ricca e super ricca stanno facendo di tutto per le loro bambine! Ma non sta funzionando! Vediamo cosa in mente Ivy! Sono sicura che posso fare qualcosa con queste lattine! Ne userò entrambe! Infilerò dello sfago nei buchi sul fondo delle lattine! Il nuovo deve essere molto stretto! Ora una la metto sulla mia pancia in modo che la mia piccolina possa sentire la musica! E un'altra la tengo io! Dolce notte, dolce notte! Dormi bene piccolina! Che male! Non capisco! Basta! Aspetta! La senti anche tu? Il suo canto e il suo gadget funzionano! Per favore aiutaci! Wow! Le ragazze sono disposte a dare qualsiasi cosa per quel gadget! Ivy canta molto bene! La sua voce è fantastica! E le bambine l'adorano! Guardate! Tutte sono felici e contente! Oh! Eccola detta le pulizie! Ho sentito dire che questa donna adora i pancioli delle donne incinte! Amo a toccarli! Oh wow! Questa è la cosa più bella nella vita di una donna! Ehi piccolina! Cosa sta succedendo lì? Cosa sta facendo con la donna? Questa pancia è molto carina! Mi scusi signora! Adesso basta! Non si preoccupi signorina! Devo pulire la sua pancia! È sporca! Vai via pazza! Ecco! Prendi questi e vai via! Oh! Soldi! Che bello! Me l'avrei fatto gratis! Vai per favore! Vai via! Wow! Sono ricca! Ehi! Mi sa che ora toccherà anche a te! Ma non so se hai abbastanza soldi da darle! Mi è rimasta solo una moneta! Che cosa posso fare? Oh sì! Un cactus! Penso di avere un'idea! Ah 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 ah! Oh oh! Evry non sa con chi avrà presto a che fare! Un altro pancione! Cosa sta succedendo qui? La sua pancia è davvero molto carina signora! Ah ah! Guardia! La guardia salverà la situazione! Vi ordino di lasciare in pace questa detenuta incinta! Ha capito? Oh! Lasciami andare! Devo lavorare! Ma qual è il suo problema? Che ne capisce le donne? Sembra che la nostra donna delle pulizie si sia calmata ora! Ma chissà per quanto tempo! C'è ancora una pancia che non ha toccato! Oh! Devo pulire qui! Mi scusi! Sì! Ci sono quasi! Ah! Ah! Il piano di Ivy ha funzionato! Ottima idea! Davvero! Ah 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 ah! Guardia! Sbrigati! Non ce la faccio! Cos'è successo? Stai bene? Devo andare in bagno! Devo fare la pipì! Oh! Certo! Certo! Aspetta un attimo! Eh? Devo andare anch'io in bagno! Dove stanno andando? Anche io voglio andarci! Sembra che tutte e tre le detenute vogliano usare il bagno nello stesso momento! Uno alla volta! Capito? Prendimi i soldi! Oh sì! Sono ricco! Sì! Ok! Ho cambiato idea! Può andare tu per prima! Sembra che Henry dovrà aspettare il suo turno! Grazie! Come ti permetti? Guardia! Questo è tuo! Devo andare in bagno! Ora! O la faccio qui! Stanno cercando di corrompere la guardia! Ecco qui! Forza! Oh mamma! Questo bagno è orribile! È un dopo quello! Ah! Mi prendi in giro! Questo è il bagno dei poveri! Io sono super ricca! Prendi! Ma per favore! Portami in un altro bagno! Sembra che non fosse l'unico bagno! Vediamo se il prossimo soddisferà gli standard di Evry! Oh wow! Un bagno d'oro! Su veloce! Mi piace un sap! Wow! Grazie mille! Vediamo in che bagno andrà Grace! Oh! Che schifo! Oh! Che puzza! Beh! Se vuoi andare in un altro bagno! Fammi vedere i soldi! Di certo non è l'oro della ragazza super ricca! Ma potrebbe essere sufficiente per avere un bagno più carino! Ah! Guardia! Chiudi la porta! Oh mamma! Che imbarazzo! La guardia ha dimenticato che c'era Evry in bagno! Ecco un altro bagno aperto! Eh! Questo non è male! Ha un buon profumo! Ok! Mi piace! Che giornata stressante! E l'ultima! Purtroppo lei è povera! E non sarà in grado di permettersi di pagare un bagno di lusso! Ecco! Prendi! Sono tutti i miei risparmi! Cosa? Un centesimo! Oh vabbè! Vieni! Oh oh! Sembra che Ivy dovrà usare il bagno puzzolente! Beh dai! Almeno funziona! Grazie allo stesso! Sono contenta che tutte le ragazze siano riuscite ad andare in bagno! È ora di mangiare! Vediamo cosa offrirà la mensa del carcere alle ragazze! Wow! Evry ha un delizioso piatto di pasta con aragosta! Grace invece ha una fantastica bistecca! E Ivy? Noodles! Ma... Oh no! Sono crudi! Poverina! Ecco un po' di soldi per te! Vorrei avere qualcosa di dolce sulla mia bistecca! Sì certo! Sporgerò un po' di cioccolatini sulla sua bistecca, signora! Oh wow! Ma davvero? Deliziosi! Oh oh! Le donne incintiano delle voglie strane! Oh wow! Anche io voglio qualcosa di dolce! Guardia! Avrei tutti questi soldi se mi dai qualcosa di dolce! Voglio qualcosa di grande! Ok! Ecco qui! Nutella e panna montata! Penso che funzionerò! Amo queste cose! Oh! Chi non ama queste cose? E ora un po' di panna montata! E ora di mettere un po' di Nutella e panna montata sopra questa noiosa ragosta! Ok! Tieni! Voglio provarla! Wow! Non vedo l'ora di assaggiarla! Evry sembra godersi il suo pasto! Oh! Povera Ivy! La guardia non potrebbe mettere almeno un po' di acqua calda dentro! Quei noodles crudi sono difficili da masticare! Oh! Chef! Per favore mi dia un po' di acqua! La supplico! Sembra che lo chef stessi bollendo le uova lì! Infatti l'acqua è ancora calda! Su forza! Cosa aspetti? Mossa intelligente Ivy! Delizioso! Che cosa? Dove ho preso quei noodles? Hanno un buonissimo profumo! Per favore dammi i tuoi noodles! Ti pagherò! Io ti darò più soldi! Beh! Guardate come sono cambiate le cose! A volte sono meglio le cose semplici! Non ce la faccio più! È arrivato il momento! Le mamme sono pronte! Oh mamma! Non ce la faccio più! Qualcuno aiuti le ragazze! Cosa sta succedendo qui? Oh no! Questo non è il momento di farsi venire l'ansia guardia! Dovresti chiamare un dottore piuttosto! Oh! Meno male! La guardia ha trovato un dottore! Va bene signorina! Inizia a spingere! Ehi! Per favore! Vieni qui! Oh wow! Quanti soldi! Sembra che il dottore sia facile da corrompere! Cosa? Non è giusto! Oro! O l'oro! Ovviamente la ragazza super ricca ha molto da offrire! Sì! Ti darò altri soldi! Wow! Quanti soldi! Dammi! Oh oh! Eri sembra furiosa ora! Wow! Una carriola piena di contanti, oro e diamanti! Il dottore non potrà dire di no! Ok! Respiri con me! Inspiri ed espiri! Ora spinga! Può farcela! Sì! Quel bambino è coperto d'oro! Su dottore! Ancora due pazienti! Sono una mamma super ricca ora! Aiutami! Fai in modo che questo dolore sparisca! Congratulazioni! Sì! Oh wow! Quanti soldi! Non riesco nemmeno a vedere il bambino! Ottimo lavoro dottore! Ma non è ancora finita! Manca ancora un altro bambino! Che cosa? Ai mi è riuscito a parturino da sola! Buon per te! Ora devo andare! E questa carriola verrà con me! Congratulazioni mamme! Buongiorno! Chi vuole sapere il sesso del bambino? Finalmente! Lo voglio sapere io! Oh! Un sacco di soldi! Devo prendere uno spillo! Eccolo! Oh wow! Non vedo l'ora di sapere se Grace avrà un maschietto o una femminuccia! Ok! Sono pronta! Fallo! Wow! È una bambina! Avrà una femminuccia! Congratulazioni Grace! Sono felice per te! Basta urlare! Ora tocca a me! Vieni dottore! Dammi quel palloncino! Muoio dalla voglia di scoprire se avrà un maschio o una femmina! Siete pronti ragazze? Wow! Avri avrà un bambino! Un bambino super ricco in arrivo! Congratulazioni! Avrai un piccolo principe! Fantastico! Qual è il problema? Avri voleva una bambina! Ma tutto l'oro del mondo non può cambiare il sesso del bambino! Ma il dottore sì! Può cambiare il palloncino! Avrai una bambina! Sì! Posso riprovare! Vediamo! Almeno questo era rosa! Congratulazioni Avri! Oh sì! Sì! Una bambina! Una bambina! Una bambina! Sì! Sono felice per te! Ora tocca a me! Finalmente! Naturalmente! Il medico ha bisogno di qualcosa in cambio! Sono un centesimo! Un centesimo! Niente palloncino per te! Che tristezza! Volevo far scoppiare anch'io un palloncino! Ah! Ciuccio blu e ciuccio rosa! Aspetta un attimo! Forse potrei usare questi ciucci! Idea! Cosa farai? Non ho capito! Piccolo topino! Il tuo compito è quello di mostrarmi cosa c'è dentro la mia pancia! Scegli un formaggio e dammi la risposta! Hai capito le regole? Via! Sembra che il topo abbia scelto il pezzo di formaggio davanti al ciuccio blu! Ivy avrà un maschietto! Wow! Non potrei essere più felice! Dopo una lunga giornata finalmente le mamme dormono un po'! I bambini li hanno stancate molto! Oh! Lo vedete anche voi? È un ladro! Rubiamo qualche bambino! Oh no! Il riscatto per il bambino di Adry è di un milione di dollari! Grace, la mamma ricca, dovrà pagare diecimila dollari! E Ivy? Cento dollari! Il mio lavoro qui è finito! Ora devo solo aspettare i soldi! Oh no! Che ladro cattivo! Guardate! Ivy si sta svegliando! Oh no! Piccolo mio! Tutte le mamme si sono svegliate! I loro bambini sono stati rapiti! No! Piccola mia! Dov'è la mia principessa? Avete meglio pagare il riscatto, signore! Prendi il mio oro! Cento? Ma non ho cento dollari! Come farò adesso? Come potrò riavere il mio bambino? Aspetta! Penso di sapere cosa fare! Sembra che abbia avuto un'idea! Oh guardate! Ecco il rapitore! È tornato con i bambini! Ah! Piccola mia! Ridammela! Mostro! Prendi quel milione e tutto il mio oro! Ma ridammi la mia principessa! Prendi forza! Oh mamma la mia bambina! Prendimi i soldi e ridammi il mio bambino! Prima il bambino! No no! Il denaro prima! Scambiamoceli contemporaneamente, ok? Ho la sensazione che avvia abbia un piano! Oh guardate! Sta cercando di catturare il ladro con delle manette di cartone! Guardia! Lasciami andare! I giorni di libertà di questo rapitore sono finiti! Cosa sta succedendo qui? Ha rubato i nostri bambini! Oh no! Vieni qui mostro! Sei in arresto! Questo è ciò che ottieni quando scherzi con delle mamme! Capito?